La ringrazio Presidente, membri del Governo, colleghi, siamo qui per prorogare lo stato d'emergenza, uno stato di emergenza su cui abbiamo sentito tante parole, forse troppo anche in quest'Aula oggi pomeriggio. E allora vi dico subito che questa proroga è doverosa, giusta e necessaria. Serve a tutelare e proteggere la salute degli italiani e di conseguenza tutelare e proteggere la nostra economia, perché nessun rilancio dell'economia può essere raggiunto senza prima aver mantenuto in sicurezza la salute del popolo italiano. Questa scelta deriva dal senso di responsabilità con cui il Governo italiano ha gestito questi mesi difficilissimi, ma va anche ribadito che la proroga dello stato di emergenza, che ne dica qualche d'uno, non significa lockdown, perché questa falsità esiste solo per coloro che alla politica seria preferiscono la propaganda delle fake news. Perché? Perché sarebbe bastato leggere le norme per capire che non era così. Il decreto di proroga non chiudeva e non chiude in casa nessuno, anzi mette in campo le condizioni proprio per evitare che ciò accada, grazie a strumenti più immediati ed efficaci di protezione dal contagio. Quindi non servono allarmismi inutili, non serve mettere in atto una strategia del terrore tanto cara a qualche forza politica, così come allo stesso tempo non serve sminuire la situazione che abbiamo vissuto e che ci troviamo ancora a vivere. Anche questo è inaccettabile per tanti motivi. Da febbraio ad oggi abbiamo vissuto tante diverse situazioni. Siamo stati travolti da un vero e proprio tsunami che la mia regione in particolare, la Lombardia, ha subito in modo straziante. Abbiamo assistito ad un aumento incredibile di contagi, abbiamo assistito ad un numero incredibile di decessi, abbiamo visto mezzi militari lasciare Bergamo carichi di feretri. Abbiamo purtroppo assistito ad una sequela di azioni da parte della giunta regionale guidata dal centro-destra che si sono tradotte in indagini, inchieste giudiziarie che hanno profondamente colpito e turbato ogni Lombardo. E quando la situazione ha iniziato lievemente a migliorare, oltre al danno è arrivata la beffa. Con i negazionisti, con chi qui in Senato ha addirittura organizzato un convegno rifiutandosi di indossare la mascherina. Un insulto vero e proprio a tutti i medici e infermieri che ogni giorno lavorano in prima linea negli ospedali, alle persone che si sono ammalate, a chi ha perso la vita per il Covid, ai familiari e agli amici che hanno dovuto assistere da lontano allo strazio della malattia di qualcuno che amavano. Ma per fortuna in Italia a gestire la pandemia c'erano e ancora ci sono delle persone serie e responsabili e non i negazionisti o gli incerti del Covid, coloro che i giorni pari chiedevano di chiudere tutto in quelli dispari di riaprire ogni cosa. Chiediamo però che d'ora in avanti ci sia più collaborazione e senso di responsabilità nei confronti dei cittadini. Da parte di tutti ci attendono mesi importanti. Impieghiamoli per uscire il prima possibile da questo periodo devastante. E abbiamo una base di partenza migliore di tanti altri Paesi al mondo, migliore perché siamo stati rigorosi nel predisporre le regole da seguire e gli italiani sono stati rigorosi nel rispettarle. E a loro va il nostro più sentito ringraziamento. E non è di certo il momento di mollare la presa o di far scendere l'attenzione, perché è una sfida che si vince tutti insieme. Siamo tutti italiani e dobbiamo tutti remare nella stessa direzione, ma ciò avverrà se la politica tutta agirà in maniera responsabile. Lo chiediamo a coloro che negavano la pericolosità del Covid per andare incontro ai desiderate di una certa parte dell'elettorato che non condivideva le misure di prevenzione antipandemia. Lo chiediamo a chi non rispettava le regole di distanziamento sociale e di utilizzo delle mascherine nonostante ricoprisse ruoli pubblici. Lo chiediamo a chi attaccava la scelta di chiudere le discoteche per poi ritrovarsi esso stesso contagiato insieme a molte altre persone. Lo chiediamo al Governo centrale e agli amministratori regionali e degli enti locali affinché agiscano all'unisono senza più polemiche e scaricabarili, perché ne abbiamo dovute sopportare davvero troppe. Lo chiediamo a chi addirittura ha parlato di un'Italia come fosse un sussidistan, cioè di un Paese fondato sui sussidi. Ma non ci dimentichiamo che dei 100 miliardi e oltre destinati dal Governo in tutti questi decreti fatti nell'arco del 2020, circa il 50% è stato proprio destinato alle imprese. Allora guai a pensare che se si danno soldi ai cittadini sono sussidi e che se invece li si danno alle imprese sono strumenti di sviluppo e di competitività. In questo senso, Presidente, voglio ricordare l'inutile e dannosa alzata di scudi contro il reddito di cittadinanza. Benedetto il reddito di cittadinanza, soprattutto in un periodo attuale difficile come quello che abbiamo vissuto e di cui non siamo ancora completamente usciti. E infine lo chiediamo a chi per tutta l'estate ha attaccato la Ministra dell'Istruzione a Zolina, che a differenza di chi la contestava, ha lavorato interrottamente per permettere la regolare riapertura delle scuole a settembre. E la riapertura, signora Presidente, c'è stata. È chiaro che il rischio zero non esisterà mai, ma è altrettanto chiaro che questo Governo ha messo in campo per la scuola molto di più di qualsiasi altro Paese europeo in termini di investimenti per la sicurezza. Abbiamo dovuto sentire stupidaggini sul plexiglass e altre fake news solo per screditare il lavoro che è stato fatto. Continui attacchi a danno degli studenti, delle famiglie e degli insegnanti. Noi oggi siamo l'unico Paese al mondo che manda tutti i giorni 11 milioni di mascherine chirurgiche gratis in 19 mila istituti scolastici italiani. È un dato oggettivo che non succede in nessun altro Paese al mondo. La scuola è di tutti, signora Presidente, proprio come di tutti, come tutti hanno il diritto di essere curati. Sono principi della nostra Costituzione che in tanti, in troppi, hanno dimenticato per il solo becero gusto di raccattare qualche voto che stavano perdendo. Gli italiani meritano uno Stato che sia all'altezza delle loro aspettative, che li protegga e li curi quando c'è bisogno. Uno Stato dove non ci siano più cittadini di serie A e cittadini di serie B nel ricevere le cure sanitarie, dove i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari siano trattati come meritano, perché non puoi chiamarli eroi e poi assumerli come precari, come sta accadendo in Lombardia, dove è partito un bando da quasi 300 milioni di euro, assegnato niente di meno che a tre colossi del lavoro interinale per la selezione di migliaia di infermieri e di operatori sanitari. Come non puoi elogiare gli ospedali di periferia in prima linea nella lotta alla pandemia, come quelli delle province di Lodi e di Cremona, e poi far chiudere interi reparti se non addirittura ospedali interi. Tutto questo non deve più accadere. I soldi ora ci sono, perché sulla sanità si è smesso di tagliare come è accaduto per troppo tempo in un passato anche recente. Ma i soldi devono essere impegnati molto meglio di prima. Vogliamo una sanità pubblica più forte e meglio radicata sul territorio e su questo stiamo lavorando e abbiamo lavorato. Non una sanità pubblica fagocitata dalla sanità privata che si prende la metà dei soldi pubblici per gestirne solo la parte più remunerativa, quella che conviene. Questo sta accadendo in Lombardia, accaduto negli ultimi decenni in Lombardia, lasciando a quella pubblica le materie più complesse e meno remunerative. Tutto questo deve finire come devono finire le porte girevoli tra la politica e i vertici dei colossi della sanità privata, perché urla vendetta la nomina dell'ex Presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, all'interno dei vertici del più grande gruppo della sanità privata esistente in Lombardia. Tutto questo conferma una volta di più che l'Italia deve dotarsi di una giusta, seria e rigorosa legge contro il conflitto di interessi. Un altro traguardo che gli italiani attendono da decenni è che nessun altro partito ha mai realmente voluto. Ma ora i tempi sono maturi, anche per questo. Il tempo c'è, ma potremo portare a casa tutti questi risultati solo se continueremo a creare le condizioni affinché il Paese possa vivere, spostarsi e lavorare in sicurezza. In sicurezza, ma a pieno regime, invitando tutti a continuare a rispettare le misure di prevenzione e a difendersi con gli strumenti messi in campo da questo Governo, compresa quell'app Immuni che ci aiuta a conoscere se siamo stati a contatto con persone positive al Covid. Iniziamo da qui con un appello trasversale a scaricarla e a farla scaricare da parte di tutti, anche di coloro che hanno avuto il coraggio di invitare le persone a non farlo. Iniziamo da qui con questo segnale di unità nazionale e sono sicuro che gli italiani apprezzerebbero. Non ci dimentichiamo che questo è una reazione che è stata lodata dalla comunità internazionale. L'ultima attestazione di stima è arrivata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che non ha mai mancato di evidenziare come il modello italiano sia stato vincente nella gestione dell'emergenza. È proprio questo atteggiamento di precauzione e prevenzione che ha consentito al nostro Paese di gestire questo coronavirus meglio di tanti altri Paesi. Adesso che i casi di Covid-19 sono tornati ad aumentare in modo importante, prorogare lo stato di emergenza è davvero l'unico modo per continuare ad essere pronti in ogni momento. Quella prontezza che tutti ci riconoscono. Quella prontezza che, secondo alcuni studi, ci ha consentito di evitare decine di migliaia di morti. Grazie, Presidente.